Amici telespettatori, abbiamo conosciuto già Sandro in altre occasioni. Lui percorreva una sorta di via crucis, chiamiamola pure così, perché era un dializzato. Quindi aveva avuto problemi, ricordo all'epoca, con i rimborsi che l'Asla non faceva per i dializzati. Problemi che in qualche modo poi si sono superati. Adesso invece Sandro ha avuto un trapianto, ha avuto un rene, e quindi conduce quasi una vita normale, però c'è un altro problema ancora all'Asla. Vediamo di che cosa si tratta. Sandro, allora io so che tu devi prendere un farmaco tutta la vita per via del tuo trapianto, vero? Sì, infatti, ogni 50 giorni devo andare in farmacia a prendermi i farmaci immunosoppressori. Senza di quelli non posso andare avanti. Dove vai a prendere i farmaci tu? All'ospedale di Siderno, in farmacia. Ma purtroppo, come me, o ad altre persone, soprattutto ad altre che stanno anche peggio di me, mancano farmaci da una settimana, un mese, e non sanno neanche loro come fare. A volte c'è chi va a reggio e chi si aggiusta. C'è chi non sa cosa fare e torna indietro a casa. E poi ogni due giorni, ogni settimana, va a chiedere se questi farmaci sono arrivati o meno. Che rischio c'è non prendere questo farmaco? E il rene se ne può andare... posso avere il rigetto, praticamente. E quindi il rene che mi ha donato mia moglie, va a farsi benedire. Quindi il problema è che ce l'ho io, non ce l'hanno gli altri. Quindi il rischio è ancora una volta... è vitale, insomma. È un farmaco che devi prendere tutta la vita? Sì, per sempre. Fidano a durare durante. Perché accadono queste cose, secondo te? E perché... non so perché se è la sanità o qualcosa, però io sono due farmaci diversi. Uno lo prende la farmacia ed è puntuale. Io vado il giorno che devo andare e il giorno dopo mi arriva. Invece in farmacia io vado e quando non c'è, quando non c'è... Nella farmacia privata lo ordini e arriva il giorno dopo. E quella pubblica, cioè in questo caso all'ex ospedale di Siderno, dove c'è la farmacia dove tu ritiri il farmaco, non arriva? Non c'è, non arriva, sono in ritardo, non sono arrivati gli ordini, c'è qualcosa che non va. Cioè le persone sono quelle, ci sono 100 persone, facciamo un esempio, 100 persone che ogni 50 giorni vanno a arrivare il farmaco. Perché non si puntuali ogni 50 giorni? Hai 50 giorni di tempo. Cioè tu dici, voi sapete chi viene qua a prendere questi farmaci, perché non li ordinate per tempo così arrivano quando ne abbiamo bisogno, giusto? Non ho ordinato l'un mese prima e ti arriva, non ho ordinato l'ultimo giorno. E l'ultimo giorno che fai? Non ci sono, io devo tornarmene indietro. E aspettare, sperando che, lasciando qualche pastiglia in più, per tenermelo due o tre giorni. Logicamente non posso andare una settimana prima. Andassi una settimana prima, dicono che è troppo presto per andare a prendere i farmaci. E non so cosa devo fare. Sentito, a volte basta solo un po' di buonsenso. Grazie. Grazie.